Loro hanno sette vocali. Voi, tedeschi o inglesi o americani, non avete le cinque vocali per il canto come ce l'ha l'Italia. A, E, I, O, U. Noi facciamo sulla stessa posizione, noi dobbiamo fare le cinque vocali. E vi do un esempio pratico. A, E, I, O, U. Vi portate necessariamente a imparare le cinque vocali e metterle le cinque vocali sulla stessa posizione.